Perché è venuto solo ora? Perché stavo bene. Adesso si è diffuso. Cosa? Questo. Che probabilità ho? Nessuna. Salve. Oggi tensione al braccio sinistro, formicolio all'indice e al medio. Sono un blogger. Vivere con la fibrosi polmonare. Non bisogna sempre trattenersi. Giusto. Allora comincio io. Come? Lascio aperta la porta del balcone, ok? Vuoi vedere un po' di mondo? Sì, certo. Tu chiedi un prestito, ce lo dividiamo e non lo rimborsiamo. Perché no? Perché a quel punto saremo già morti. Non è giusto. È giusto morire. Ho il tuo stupido colore di capelli. Cosa? Tutto qui? Sì. Ritiriamo i soldi alla cassa o... Ma davvero così di fretta? No, ovviamente. Che diavolo fai? Sei pazza? Lasciamo fare il caso. Chiudi gli occhi e punta il dito. Che cosa? Chiudi gli occhi e punta il dito. Mombasa. Cosa? Ti piace? Moltissimo. Ti stai divertendo? Tanto. Anch'io. Che significa? In capo al mondo. Con quello? Sei impazzito del tutto! E' stato il ragno sott'aceto. Era un gambero. Aveva i peni. La morte non esiste. C'è solo un breve momento prima. E non è affatto male. E' questo il giorno più bello? E' questo il giorno più bello? Ce ne sarà uno migliore. Dammi i soldi. Niente giorno più bello, niente soldi. Niente giorno più bello. Niente giorno più bello. Grazie a tutti.